Con le universiadi del prossimo luglio Napoli ha una grande opportunità sportiva, sociale, economica certo, ma anche su tematiche come la salute e la ricerca sul tema. Se n'è parlato al dibattito dal titolo Il ruolo della ricerca scientifica nel campo delle attività motorie e sportive aspettando le universiadi. Un convegno internazionale svolto nell'aura magna dell'Università Partenope che ha visto la partecipazione di ricercatori, esperti e testimoni privilegiati su questioni e problemi relativi al miglioramento della qualità della vita dei cittadini per lo sviluppo di azioni concrete e progetti innovativi. Abbiamo sentito il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. Si parla dello sport come modello di vita, la salute, l'obesità eccetera, però i discorsi restano voti se non sono applicati. Però per applicare certe idee occorre che i giovani vivano lo sport in modo emozionante. Cioè non basta vedere lo sport per televisione, non è emozione quella. Le emozioni le daranno proprio le universiadi. Tutti questi giovani che vengono da tutto il mondo con le loro idee, le loro culture, ma con il linguaggio comune dello sport, permetteranno di avvicinare lo sport e di viverlo intensamente. Allora ecco che le universiadi diventano un'occasione irripetibile per il nostro territorio per ammodernare impianti sportivi e sviluppare progetti legati allo sport e alle attività motorie, proprio come fa l'Università Partenope. Ascoltiamo il presidente dell'Ateneo, Alberto Carotenuto. Noi le universiadi le stiamo vivendo in una maniera ovviamente un po' più intensa rispetto alle altre università, proprio per il coinvolgimento che il commissario straordinario di governo, Ingegnere Basile, ha voluto dare per cui tutta l'area di scienze motorie. Quindi partiranno una serie di bandi, oggi stesso verranno emanati per dei tirocini curricolari che verranno recepiti nel piano di studio di tutti quanti gli studenti. Grazie.